Fine settimana importante per le due squadre nissene di basket Invicta e Cusn. L'Invicta, capolista del girone B di Serie D, scenderà sul campo del Cefalù per una domenica decisiva. Infatti, gli uomini del coach Spena, vincendo sul parquet di Cefalù e in concomitanza con gli altri risultati, potrebbe già festeggiare con ben tre giornate di anticipo la propria promozione, con un ruolino di marcia da grande squadra e con tanti giocatori che si sono messi in luce durante l'arco della stagione. Basket, Serie D, girone B, undicesima giornata. Messina, Virtus, Trapani. Cefalù, Invicta. Sant'Agata, Leonardo da Vinci. Riposa, capo basket. Impegno casalingo invece per la Cusn, che domenica sera al Palacanizzaro incontrerà l'Olimpia dopo la sconvitta di domenica scorsa a noto contro la Salus Sport. I ragazzi, capitanati da Davide e Barbera, cercheranno di centrare la vittoria e per questo cercheranno anche il sostegno del fattore campo. La Cusn può sentirsi comunque soddisfatta della propria stagione, dove sta mettendo le basi per presentarsi al meglio nel prossimo campionato, dove vorrà recitare un ruolo da protagonista. Basket, promozione, girone D, non aggiornata. La Fenice Basket Polisportiva Salusport, Cusn, Olimpia. Riposa, nuova città di Gela.